Negli scorsi giorni è uscito un video in cui facevamo una trasmissione seriale tra due arduini e qualcuno nei commenti ha suggerito ma non si può fare opto isolata? Sì, e ho provato a realizzarla, quindi oggi vediamo come trasmettere dati via seriale tra due arduini completamente isolati, quindi sono ognuno nel suo mondo, abbiamo realizzato dei circuiti con degli opto isolatori, in questo modo potete trasmettere nella massima sicurezza. Iniziamo subito. Nei giorni scorsi mi avete fatto venire un'idea, ho realizzato una trasmissione seriale tra due arduini con ACK, senza ACK, insomma una serie di varie possibilità e qualcuno chiedeva ma si può fare opto isolata? Come funzionerebbe? Allora si può fare sì e ho provato a farla, quindi abbiamo due arduini, A1 e A2, vogliamo farli comunicare ma li vogliamo tenere isolati, allora abbiamo incontrato ultimamente gli opto isolatori, quindi useremo degli opto isolatori. Iniziamo a fare la prima linea, quindi da A1 vado ad A2, abbiamo qua il nostro opto isolatore, lo faccio un po' piccolino, andremo a prendere la linea 2, quindi pin 2 su cui poi avrò una software serial, questo qui per noi è il TX, questo TX lo vado a portare con un resistore sul mio opto, uso un 4N25, 4N25 che abbiamo visto prima, quindi pin 1, poi questo qua è il pin 2 che vado a portare verso ground, con resistenza da 3,90, questo pin 2, da quest'altra parte avremo il transistor all'interno. Andiamo a realizzare il circuito che abbiamo visto l'altra volta, quindi il pin 4 che è il collettore lo portiamo verso ground, il pin 3 dovrei collegarlo con il resistore da 10K all'alimentazione 5V, occhio che è dell'arduino di destra, magari ve lo segno proprio esplicito, quindi questa qui è il 5V che proviene da questo arduino qua, anche questo ground è della parte di destra, quindi va mantenuti separati, quindi questo qui va verso questo arduino qua e questo verso questo, separate completamente. Mi sono dimenticato di disegnare il LED interno, ok. Bene, purtroppo così abbiamo un problema, perché abbiamo visto l'altra volta che il segnale risulta girato, quindi qui sarà così ma da questa parte me lo trovo sotto sopra. Allora, per evitare sorprese voglio raddrizzarlo e quindi interveniamo aggiungendo anche un transistor, transistor va pilotato con un resistore da un centinaio di ohm, lo mettiamo qua, questo avrà l'emettitore collegato a ground, il collettore invece con resistenzina da 1K verso 5V, scusate ho fatto un errore, qua ho messo 10K per abitudine, ma abbiamo visto che per portare il transistor in saturazione è meglio utilizzare il valore di 1K, ora qui ho finalmente il segnale raddrizzato, quindi messo in questo modo e posso finalmente portarlo sul pin 3 dell'arduino di destra, quindi arriveremo così. Che transistor usare? Vi serve un NPN, io ho usato un BC237, è un transistor classico, potreste averne qualcuno nel cassetto, se lo vedete lato piatto i pin sono messi così, C, B ed E, basta comunque in qualsiasi NPN. Ok, quindi questo è una linea, devo fare l'altra, quindi il contrario, dal 2 qua, che sarà su questo lato il TX, questo qua era l'RX, farò la stessa cosa, quindi andrò a pilotare il LED interno di un opto isolatore, con resistore da 3,90, arriviamo qui, questo qui pin 1 del nostro opto, qua LED interno e qui ho il ground che viene riportato sull'arduino di destra, ovviamente. Questo lato qui invece ho il transistor interno, emettitore è sul pin 4, collettore sul pin 5, questo fa già riferimento all'arduino di sinistra, quindi da questa parte avremo il ground che andrà da questa parte qui, quindi su questo ground di questo arduino, e qui dobbiamo ricostruire lo stesso circuito che abbiamo visto prima, quindi avremo un resistore da 1K, questo qui è il 5 volt ma riferito all'ordine di sinistra, andiamo a incastrare qui un secondo transistor che avrà l'emettitore collegato sempre al ground, qui resistore da 1K, per il pilotaggio arrivo sulla base con 100 ohm, 100 ohm che vado a collegare qui, finalmente possiamo prendere il segnale di uscita qui e lo portiamo sul pin 3, che è il nostro RX, faremo in questo modo, da una parte vado e da quell'altra torno. Ecco qua la nostra complessa seriale opto isolata, vediamo se funziona. Ci servono due sketch, sul primo arduino, quello di sinistra, andiamo a creare un trasmettitore, lo facciamo usando la serial software serial, quindi partiamo nello sketch, facciamo include library, andiamo a pescare software serial, glielo aggiungiamo qua, vado a copiarmi il software serial e creiamo un oggetto chiamato port, gli diamo i due pin, per me il 3LRX e il 2LTX, abbiamo poi il setup, quindi void, setup, aperta, chiusa, aperta, chiusa, graffa, qui inizializziamo la nostra port, faccio port.begin di 9000 e 6, qua trasmetteremo dei numeri, quindi non mi serve altro, poi prepariamo il loop, void, loop, aperta, chiusa, questo si ripete all'infinito, creiamoci un numero int i uguale 0, lo incrementiamo e lo trasmettiamo, quindi faremo port.println di i, incrementiamo i e mettiamo un delay di un secondo, quindi questo è tutto, lo compiliamo e lo carichiamo sul primo Arduino, poi prepariamo un nuovo sketch, copiamo questo codice che ci servirà, qui nel nuovo sketch, che è quello del ricevitore, lo incolliamo, la porta è sempre impostata su 3.2, nel setup facciamo il begin, qui aggiungiamo serial, perché questo lo andremo a leggere, serial.begin90006, voglio vedere i dati ricevuti su serial monitor, e poi nel loop ci mettiamo ad ascoltare quello che arriva sulla porta software serial e lo giriamo sulla porta vera, in modo da poterlo ricevere su serial monitor, per ricevere uso un while port.available, quindi se ho qualcosa che mi arriva sulla porta software serial, vado a leggerlo e lo butto direttamente sulla seriale vera, quindi faccio serial.write, scrivo che cosa? Quello che ricevo dall'altra parte, quindi faccio port.read, quello che mi arriva lo butto di là, compilo e lo carico, attenzione, sul secondo Arduino, non confondete le due porte, quali vedete montati su breadboard, con la trasmissione in corso, andiamo a vedere adesso il serial monitor, sul serial monitor del ricevitore, vediamo arrivare la sequenza di numeri, come abbiamo previsto, quindi poi con questo potete fare tutto quello che volete, quindi siete opti isolati da una parte e da quell'altra, e potete realizzare qualsiasi protocollo di comunicazione desideriate. Spero che questo progetto sia interessante e possa darvi una mano nelle vostre realizzazioni, magari se avete qualche disturbo o qualche problema, tenete presente che l'abbiamo usato con la seriale, i protocolli poi che implementate sopra dipendono da quello che volete trasmettere, quindi potete mettere ACK, tutto quello che volete, trasmettere strutture, oppure estendere questa modalità di isolamento per qualsiasi altra trasmissione, quindi non solo quelle seriali. Vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani, ciao!